Chi sarà il nuovo sindaco di Favara? Lo scopriremo nella lunga diretta non stop che Sicilia TV ha organizzato per domani sera. Il servizio pubblico offerto dalla nostra emittente Cassa di Risonanza della Città continua anche in vista dello spoglio elettorale. Nostri inviati agioneranno in tempo reale i dati delle urne dalle 35 sezioni elettorali che saranno commentati in studio da Salvatore Sorce e dai suoi ospiti in una lunga maratona televisiva. Conosceremo i risultati di Favara e non solo aggiornamenti diretta anche dagli altri comuni agrigentini chiamati al rinnovo di sindaci e rispettivi consigli comunali. Sicilia TV ha invitato i sette candidati a sindaco della città dell'Agnello Pasquale, i loro supporter e onorevoli a prescindere da come andrà l'esito del voto, a partecipare alla trasmissione e commentare l'andamento dello scrutinio e risultato delle votazioni. L'appuntamento con lo speciale Lezioni di Sicilia TV è quindi fissato per domani sera, poco prima dell'inizio dello spoglio. La diretta si potrà seguire oltre che sui canali 287 777 del Digitale Terrestre, anche in streaming dal nostro portale internet www.siciliatv.org.